e che ha avuto in questi cinque anni è straordinariamente cresciuta nel mercato dei servizi e della progettazione ed è anche il direttore della divisione DGW che è una società che si occupa sostanzialmente di progettazione della postazione di lavoro, del workplace, con un atteggiamento molto attento all'organizzazione del comportamento nel luogo di lavoro per cui è una società che fa ricerca e che associa all'attività di progettazione anche un'attività di consulenza cioè allargando il focus del progetto. Perché lo abbiamo invitato? Beh, non solo per la rilevanza, diciamo, delle società di cui è direttore e partner perché già questo potrebbe essere una ragione, ma non è tanto per quello ma soprattutto per il modo di operare di queste società perché ci sembra che sia molto importante una focalizzazione sull'effetto e non sull'origine e questo è interessante parlare di questo in una scuola d'architettura che per necessità di azione deve concentrarsi sul costruire una coerenza tra l'iscrizione progettuale prodotta dallo studente e i valori che la presuppongono perché poi non c'è nella didattica ovviamente una fase di verifica con la realtà nel senso che lo studente progetta ma poi ovviamente non realizza per cui quello su cui i docenti si concentrano è la corrispondenza tra i presupposti e il progetto beh, se vogliamo usare una, diciamo, radicalizzare le tesi Lombardini 22, DGW in particolare, e per cui Alessandro Adamo è qui per parlarci anche di questo si preoccupa di come il progetto si misura con la realtà per questo la realtà la studia per questo si studiano, storicamente DGW è una compagine che ha fatto la storia della progettazione, della postazione del lavoro ha guardato il mondo, uno specifico mondo, il mondo degli uffici il mondo del lavoro in ufficio e ha guardato nel suo cambiamento, come si è trasformato e per cui è riuscita a rispondere a un problema specifico se voi guardate, come vi invito a fare, il sito di Lombardini 22 e di DGW scoprite che il primo obiettivo con cui si presentano queste società è risolvere problemi non la fedeltà a un valore originario non so, la sostenibilità, o Renzo Piano che dice, triangoli, gheri, le cose storte ma la capacità di risolvere problemi del mondo questo vuol dire mettere in discussione il principio di autorità autoriale quello su cui è costruito un cardine del valore dell'architettura e metterlo invece e spostarlo sugli effetti che la progettazione ha sul mondo tant'è vero che sempre nel flag della DGW c'è scritto progettazione multi-autoriale una interdisciplinarietà praticata e non è un caso che si parla di strategie spesso non di soluzioni progettuali ad hoc ma di una strategia complessiva che è capace di ampliare il focus al suo contesto e a tutte le condizioni queste gli sembrano le ragioni tutte buone ragioni per incontrare Alessandro ma soprattutto per portarlo dentro l'università perché anche l'università studia il mondo però vedere come lo studia una realtà professionale forse è anche più interessante io mi auspico che ci sia un ambito di azione fra le strategie dell'università e le strategie degli operatori privati che però si pongono in questa prospettiva di studio operante e che in futuro siano sempre più strette siano sempre più collaboranti è per questo che diciamo stiamo ridiscutendo il mandato del progettista il mandato dell'architetto e il modo migliore è discuterlo con chi da prospettive diverse si pone obiettivi simili a quelli dell'università ed è per questo che ringrazio Alessandro di questa conferenza grazie Giovanni grazie mille per l'introduzione e grazie a tutti so che siete più o meno nella pausa del pranzo cercherò di rendere questo momento anche divertente tra virgolette ma Giovanni ha detto un sacco di cose devo dire molto molto nelle quali io mi ritrovo mi sono ritrovato mi sono cercato quando ero uno studente perché io sono una persona estremamente ma figlio di un ingegnere e quindi questo per me come dire il fatto di trovare della praticità e del poter applicare quello che era lo studio quando facevo la facoltà di architettura è sempre stato per me una sfida e una ricerca ecco perché io ho iniziato a lavorare in DGW quando ero un giovanissimo studente di architettura ma due parole velocemente su DGW DGW è una società che nasce a Londra negli anni 70 il nome è dato dai quattro soci fondatori Duffy, Ili, Giffone e Workington tutte persone, tutti architetti persone che appunto negli anni 70 è stata sicuramente degli innovatori il fatto di concentrarsi su un'area della progettazione che è quella del workplace è stata una scelta una scelta che portiamo avanti e il fatto di fare non solo diciamo progettazione ma alimentare la progettazione con la ricerca e con un processo che ha sostanzialmente all'interno due anime un'anima che è quella del mondo della consulenza e poi vi spiegherò che cosa vuol dire fare consulenza nel mondo delle organizzazioni e nel mondo dell'architettura per uffici e un'anima che invece è l'anima più prettamente progettuale quindi lo sviluppo di progetti per noi e questo ci tengo molto a dirlo non parte un progetto se prima non abbiamo fatto una fase di analisi come dicevi tu noi siamo e questo ancora adesso mi piace dirlo noi siamo degli architetti di servizio noi abbiamo una metodologia e mettiamo a disposizione dei nostri clienti questa metodologia per far sì che i clienti si riconoscano negli spazi che noi andiamo a progettare quindi questo è un punto molto fermo è un punto del quale siamo estremamente convinti e del quale ci piace essere DigiDubb nel diciamo che tra i primi clienti ovviamente immaginate negli anni 70 le organizzazioni fondamentalmente che avevano un numero importante di persone erano le organizzazioni del mondo tecnologico quindi uno dei primi clienti di DigiDubb è stata l'IBM e l'IBM quando ha dovuto aprire i propri uffici a Milano nell'85 siccome giustamente arriva in Italia e dice ma che architetti che cosa mi trovo si è portata dietro i propri consulenti e quindi ecco perché DigiDubb nel 1985 apre l'ufficio di Milano io entro molto giovane nell'89 e mi appassiono a questo mestiere nell'evoluzione DigiDubb apre sedi a New York Londra, Parigi un po' con questo spirito con un bellissimo network di uffici che allora era un po' più difficile perché quando ho iniziato non c'era internet non c'erano delle cose che oggi diamo per scontato però c'era questo collegamento molto molto forte e questo collegamento che poi via via nell'evoluzione della società porta a un diciamo a un distaccamento di DigiDubb Italia che diventa operativa all'interno di Lombardini 22 quindi Lombardini 22 le altre le altre DigiDubb vengono sostanzialmente annegate dentro una società che si occupa di construction quindi oggi diciamo che noi siamo l'unica realtà che porta avanti questo brand e dall'Italia anzi stiamo andando all'estero seguendo i nostri clienti Lombardini 22 è un gruppo che nasce diciamo da 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 sei professionisti ai quali poi io mi sono aggiunto quando DigiDubb è entrata a parte del gruppo quindi oggi il management diciamo siamo sette partner tutti molto operativi e tutti come dire che sono cresciuti fin da piccoli all'interno delle aree di business che oggi sviluppano provo a spiegarmi meglio Lombardini 22 è una società di progettazione che crede nella specializzazione dei settori per cui quello che vi ho raccontato prima di DigiDubb lo è anche per altre aree di business qui vedete diversi brand Eclettico si occupa di progettazione del luxury Food si occupa di progettazione in ambito physical branding experience Atmos in ambito come dire qualità comfort parliamo dell'illuminotecnica dell'acustica parliamo del tema del verde abbiamo internamente tutta la parte di ingegneria tutta la parte di architettura tutta la parte legata al mondo retail e i miei soci Marco Amos è iniziato anche lui per esempio fin da molto giovane con Renzo Piano e oggi segue tutta la parte di architettura Adolfo nel mondo retail diciamo uno dei guru ovviamente della progettazione del mondo centri commerciali così come Roberto Cereda insomma siamo tutti molto anche molto operativi su questo abbiamo cominciato a creare anche delle contaminazioni di settori di aree voi pensate che il tema del physical branding per esempio è un tema legato è un tema che ha origine nel mondo retail parlo degli store entro nel mondo nello store della Nike e sono immerso nel brand Nike abbiamo iniziato a portare questi concetti nel mondo ufficio negli uffici di Heineken di Coca Cola di Nestlé e quindi abbiamo cominciato a contaminare anche questi quindi diciamo che nell'ottica che dicevo prima di essere di servizio ognuna di queste business unit ha una sua autonomia e ognuna di queste business unit può diciamo si può unire aggregare a delle altre per fornire ai nostri clienti dei servizi quanto più specifici e completi possano essere come dicevo oggi il gruppo è un gruppo importante siamo cresciuti siamo cresciuti continuiamo a crescere il nostro trend di crescita è più o meno del 20% siamo oggi 300 300 professionisti ma continuiamo a mantenere io dico quella quella passione quella vicinanza e quella artigianalità propria diciamo degli architetti noi di fatto su questo mi piace dire ogni business unit ha la sua artigianalità messa all'interno di una macchina che ha una potenza di produzione di capacità produttiva progettuale molto importante quindi abbiamo mantenuto l'artigianalità in alcuni settori e sviluppato invece la parte più industriale su altri pensiamo alla produzione in disegno tridimensionale in BIM in Revit piuttosto che la renderizzazione diciamo piuttosto che quindi questi sono alcuni alcuni dei concetti questi sono alcuni dei clienti entriamo più sul mondo ufficio quindi oggi sui progetti come dire sicuramente grandi ci siamo ma non solo grandi per noi è importante anche un progetto di 500 metri quadri di 1000 metri quadri a Treviso piuttosto che in altre parti d'Italia chiaramente una realtà come DigiW nasce dove diciamo dove ci sono aziende grandi dove il costo al metro quadro di uno spazio ufficio è importante e quindi diciamo che nasce anche nell'ottica come dire di aiutare le organizzazioni a spendere bene a spendere giusto e incrementare il business dell'organizzazione stessa questo è un po' il nostro il nostro territorio questi sono i nostri uffici io e quello che vedete alle mie spalle è l'ufficio vero ovviamente diciamo che è una foto ma comunque è fatto in questo modo e quando io ho iniziato ho iniziato in uno spazio che ovviamente non era questo ma i principi erano questi mi piace molto far vedere questa immagine perché per progettare uno spazio ufficio dobbiamo capire quali sono i valori che ci sono dietro un'organizzazione per noi è fondamentale la condivisione e ci dà una velocità nel condividere progetti idee e elementi elementi sui quali stiamo lavorando è fondamentale la flessibilità e quindi questi pannelli sono dei pannelli che abbiamo fatto realizzare in modo molto semplice e questa navata centrale si può aprire per ospitare 200 persone in modalità conferenza ed è fondamentale anche la semplicità per cui diciamo che questi elementi che vedete sono degli elementi semplici che però ci fanno lavorare bene quindi ovviamente questo è quello che abbiamo fatto su di noi e ogni progetto che vedete che vi farò vedere ha delle valenze diverse perché è legato al business dell'organizzazione il nostro metodo allora il nostro metodo a me piace dire che dal 1973 oggi non è cambiato è cambiato tutto quello che c'è intorno ma il nostro metodo che è un metodo molto semplice è ancora lui è un metodo che è basato su due concetti fondamentali il concetto della domanda e dell'offerta la domanda è data dall'organizzazione parliamo di domanda organizzativa che cosa serve a una società come questa società crescerà in che termini di numero di persone analizziamo come viene utilizzato lo spazio nel corso della giornata lavorativa che esigenze ci sono di relazione di sinergie per cui che è la parte alla quale io mi sono molto appassionato diciamo tutta l'area legata al mondo più della consulenza del capire le dinamiche che avvengono all'interno di un'organizzazione in parallelo a questo diciamo che è importante capire quella che è l'offerta edilizia cioè il patrimonio immobiliare l'edificio la scatola il contenitore e anche su questo in modo come dire molto ingegneristico partiamo dalle misurazioni dello spazio dalle profondità delle maniche di un edificio che offrono ovviamente diverse sistemi di pianificazione quindi diciamo che da questi dall'analisi di questi due mondi mettendoli insieme cominciamo a sviluppare quelli che sono i progetti i progetti che sono dei progetti mirati a far lavorare meglio le persone e a far funzionare meglio le organizzazioni su questo ovviamente a volte questi progetti ci portano anche all'esterno quindi su progetti di riqualificazione completa di edifici qui vedete questo uno è la vecchia sede della 3M che è stata completamente trasformata con traslazioni di superfici però ecco con un approccio mi piace dire dal dentro verso l'esterno l'esterno deve essere bello funzionale sostenibile ma la cellula di quello che avviene dentro e quindi il concetto di flessibilità per noi è un elemento importante un driver importante che si riflette anche sulla parte impiantistica di come un edificio funziona quest'altro invece è un progetto nuovo un green field che abbiamo realizzato siamo a Beirut anche qui mi piace dire questa cosa questo cliente libanese era alla ricerca di un designer italiano ma di qualcuno che ne sapesse di uffici sono andato a Beirut con uno dei miei soci e abbiamo analizzato il progetto cioè io ho analizzato il progetto c'erano delle cose che non funzionavano blocchi scale in facciata profondità di piano che non andavano quindi abbiamo cominciato seppur coinvolti su una parte di interior apparentemente questo ci porta ad analizzare l'edificio la morfologia dell'edificio e l'abbiamo stravolto ci hanno dato un incarico per sviluppare il progetto da ex novo e questo è diciamo il risultato di quello che è stato sviluppato ci piace lavorare sui progetti coinvolgendo le persone le persone sono il valore di un'organizzazione e quindi uno dei primi workshop che a me piace fare con il board con l'amministratore legato con tutto il team è definire la vision di un progetto cioè perché nasce un progetto di restyling o di nuova sede all'interno di un'organizzazione e su questo abbiamo diverse metodologie con delle immagini con una fase proprio di interazione dove estrapoliamo un po' quelli che sono i valori la vision e ci confrontiamo ovviamente lavorando su tanti per tante realtà tante aziende io continuo io dico io imparo ogni volta delle cose ancora nuove e di imparare queste cose nuove visto che il nostro mondo è un mondo in continua evoluzione ci permette anche di ridistribuire queste cose che conosciamo all'interno delle organizzazioni quindi per me è come fosse sempre un grande un grande laboratorio anche l'esperienza che oggi stiamo vivendo ci porterà sicuramente a rivedere delle logiche in modo in modo importante all'interno degli spazi non solo di salubrità ma anche di modalità di come questi spazi li abbiamo vissuti fino a ieri li abbiamo lasciati chiusi e quando torniamo dovranno essere qualcosa di diverso questi sono alcuni dei progetti recenti che abbiamo sviluppato e vedete come in realtà non c'è uno stile lo stile è lo stile che parla di Microsoft che parla di Heineken che parla di Ernest Young quindi ognuno di questi progetti parla uno stile proprio del cliente i progetti grandi sono dei progetti in cui io dico ovviamente non siamo gli unici che progettano spazio ufficio ma devi affidare il tuo progetto a chi sa cosa vuol dire gestire 3000 persone no e progettare 40.000 metri quadri di spazio ufficio perché sono progetti dove non puoi sbagliare sono progetti dove se non hai un metodo rischi veramente di fare dei danni economici temporali di ritardi importanti quindi questo diciamo un po' lo skyline sui quali siamo stati coinvolti mi piacerebbe adesso farvi vedere un po' che cosa che cosa vediamo cioè com'è com'è questa evoluzione del mondo dell'ufficio qui in realtà manca manca l'altro ieri che quando ho iniziato io e forse anche tu Giovanni dove non c'erano neanche i computer dove poi lo spazio è iniziato a strutturarsi con il classico tavolo che aveva una forma molto profonda perché doveva contenere i primi computer che avevano quelli profondi col tubo catodico molto i famosi cubicle no oggi siamo in una situazione dove lavoriamo tutti oggi poi più che mai lavoriamo veramente tutti in modalità remota ma domani io sono sicuro che anche questo come dire questa modalità ci porterà a essere più immersivi nelle tecnologie no avremo delle virtual room dove ci potremo incontrare e ci sono già oggi delle situazioni dove la tecnologia ci sta portando a relazionarci in modo diverso con lo spazio abbiamo tutto il mondo dei social network abbiamo tutto il mondo non so chi di voi ha provato sicuramente la realtà virtuale tanti sicuramente la realtà degli HoloLens non lo so io avendo progettato Microsoft ho provato che cosa vuol dire indossare gli HoloLens che ti permettono di vedere sostanzialmente degli oggetti modellati ma in uno spazio fisico reale vi faccio un esempio lo showroom della Volvo in Svezia non ha dentro le macchine le macchine io le vedo attraverso gli HoloLens e quindi attraverso gli HoloLens ho la possibilità di selezionare il modello che voglio di vedere la finitura il tessuto i cerchioni il colore e quindi questo però porta a una relazione diversa tra l'uomo e l'oggetto e lo spazio e tra gli uomini all'interno dello spazio quindi su questo vi posso dare dei dati oggettivi noi abbiamo negli ultimi anni osservato più di 15 realtà internazionali quando dico osservato vuol dire che questa nostra consulenza che si chiama Time Utilization Survey vuol dire che per due settimane ogni ora osserviamo come viene utilizzato lo spazio ufficio nel corso della giornata nel corso della giornata lavorativa e possiamo dire che mediamente la postazione del lavoro è utilizzata al 50% del tempo quindi questo è un dato se pensiamo su numeri importanti pensiamo a una società di 3.000 persone che ha postazione occupata al 50% del tempo possiamo dire che le persone sono mediamente in sede il 60% del tempo 70% del tempo quindi quando non sono al proprio posto sono in altri luoghi e quindi questo comincia a far riflettere le organizzazioni diciamo a uno dei nostri punti di partenza per sviluppare dei progetti abbiamo diciamo nell'osservazione entrando un po' nel dettaglio diciamo che anche le aree di supporto sono utilizzate spesso non come i clienti credono i clienti spesso ci dicono che hanno problemi di dimensione di quantità di tipologie di aree di supporto ma in realtà guardate per esempio spesso riscontriamo che per il 18% del tempo le sale riunioni sono usate da una persona quindi diciamo che tutta questa parte molto molto analitica di grafici che vengono fuori divisi per dipartimenti per funzione voi pensate oggi cosa vuol dire avere un 30% del tempo il posto lavoro non occupato non occupato ma nell'area grigia la persona è nella sede quindi è in un altro luogo della sede e il 20% del tempo proprio la persona non è neanche nell'edificio quindi vuol dire che sta facendo attività lavorative fuori dalla sede quindi queste analisi portate nei dipartimenti nei gruppi permette di veramente di sviluppare un progetto che risponde alle esigenze del cliente altra cosa importante questa è molto interessante è vedere la differenza tra quello che hai ok e quello che ti servirebbe quando noi osserviamo per esempio le sale riunioni spesso oggi le riunioni sono fatte da gruppi di 3-4 persone ma spesso i clienti hanno sale riunioni da 10-15 quindi vuol dire che stanno usando male quello spazio e quindi qui si vede chiaramente come io potrei ottimizzare utilizzare meglio ovviamente gli spazi a mia disposizione un'altra delle cose importanti quindi l'analisi che vi ho raccontato oggi è come dire è un'analisi oggettiva io vado misuro come quando è una misurazione reale poi abbiamo un'analisi soggettiva che invece è cosa pensano le persone e su questo abbiamo dei questionari che vengono distribuiti all'intera organizzazione dove nel questionario ci sono una serie di domande sulla possibilità di concentrarsi sulla rumorosità degli spazi sull'ergonomia e il questionario è fatto con quanto è importante per te diciamo questo tema e qual è la performance degli spazi quindi diciamo che i dati che ci ritornano sono molto utili perché nel momento in cui ho un'importanza alta ma una performance bassa è uno dei punti dove dobbiamo andare a risolvere il problema quindi spesso oggi una delle criticità maggiori è data dal tema del rumore all'interno degli spazi ufficio quindi questi sono sicuramente degli elementi dove dobbiamo entrare la differenza tra l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo è importante noi quando chiediamo alle persone quanto tempo pensi di stare al tuo posto le persone ci rispondono mediamente che pensano di starci il doppio di quello che in realtà ci stanno ecco perché anche su questo è importante poi ve lo racconterò un'altra delle attività che facciamo che è quella del coinvolgimento delle persone nello sviluppo di questi progetti ecco che se facciamo quest'analisi e cominciamo a pensare alle tipologie di lavoratore non ragioniamo più con lo standard di spazio legato allo status ma con lo standard di spazio legato a che lavoratore sei noi sicuramente avremo dei lavoratori più resident dei lavoratori che quindi vuol dire che tutti i giorni vanno in ufficio e devono fare delle attività dei lavoratori che organizzano dei gruppi e dei lavoratori che invece lavorano più all'esterno della sede su questo ovviamente cominciamo ad applicare dei concetti di condivisione perché se io vado in ufficio che ne so una volta o un giorno non mi serve un posto posso condividerlo con altre dieci persone se vado in ufficio e invece sono in ufficio però sto in giro posso condividere il mio posto con altre tre persone quindi questi ragionamenti portano anche a dei work setting completamente completamente diversi tra l'amministrativo e la persona che invece va in ufficio per condividere delle cose quindi oggi per esempio a fronte anche di quello che stiamo vivendo sicuramente ci sarà uno spostamento tra quella che fino a ieri era la popolazione resident e quella che oggi è la popolazione oggi praticamente siamo 100% in external mobile quindi questo ha ovviamente una valenza una valenza che ha un impatto sulla quantità di spazio che serve a un'organizzazione perché se cominciamo a ragionare che mille persone non sono uguali a mille posti ma mille persone sono uguali a 800 a 500 o a 300 posti dico per assurdo questo porco ovviamente ha una quantità di area di metri quadri necessaria a un'organizzazione completamente diversa in questo sta cambiando anche la tipologia e la morfologia degli spazi se fino a ieri fatto 100 un ufficio la maggior parte dell'area l'80% erano aree ufficio e 20% sale e riunioni oggi già oggi pre situazione di dove siamo in questo momento il 35 40% dello spazio erano aree di supporto e non solo sale e riunioni aree di supporto completamente diverse quindi questo diciamo che se mettiamo dei cursori mi piace molto questo concetto e facciamo un po' di storia di come si è evoluto lo spazio sicuramente la mobilità negli anni 70 era zero il lavoro in team non esisteva negli anni 90 la mobilità continuava a essere zero c'erano i computer ma non erano tecnologie che ci possiamo portare in giro il lavoro in team iniziava sì ma così così oggi quei due cursori della mobilità e del team sono dei valori importanti all'interno delle organizzazioni oggi in quasi tutte le organizzazioni si parla di agile si parla di creare connessione questa è una delle cose nella quale io fin da giovanissimo ho comunque creduto molto il nostro come anche diceva diceva Giovanni all'inizio è un mestiere dove noi dobbiamo lavorare in squadra il nostro più di tutti cioè lo sviluppo di un progetto credo sia possa portare molto più valore quanto più possiamo condividere con dei colleghi con altre persone no quel progetto quindi questo oggi ancora di più è uno degli elementi degli elementi importanti ecco che stiamo sicuramente vivendo una a me piace dire questa un po' una contaminazione no cioè l'ufficio sta diventando come una grande città dove ho le piazze per connettermi dove ho gli spazi dove fare delle attività più riservate ma al tempo stesso le nostre città stanno diventando un grande ufficio entriamo nei bar e ci colleghiamo andiamo in stazione mentre aspettiamo il treno ci serve il wifi e magari facciamo io a me capita di fare degli incontri delle riunioni a Firenze con gente che viene da Roma e diventano degli hub di connessione no pensate anche solo al progetto noi abbiamo seguito BNL nel progetto nuova sede Tiburtina e ha fatto la sede a Milano in prossimità della stazione di Milano c'è la torre BNL e in Tiburtina c'è le quarter BNL quindi ha praticamente collegato due poli dove lavorano 3.000 persone a Milano e 3.000 persone a Roma che in due ore e mezza sono connesse con il treno quindi oggi anche secondo me in Italia noi non abbiamo una massa di non abbiamo una città come può essere Londra con 9 milioni di abitanti però abbiamo una Milano che è collegata in un'ora e mezza con Bologna che è collegata in un'ora con Brescia che è collegata in un'ora con Torino e quindi questi diventano sostanzialmente dei grandi poli e quindi sta cambiando completamente un po' questo concetto questo diciamo è un po' riassunto di quello che vi ho detto di come dà l'analisi i dati la definizione del modello e la definizione degli stili quindi questo ha ovviamente quello che vi ho raccontato un impatto poi sugli spazi e sulla progettazione degli spazi sulla quantità delle aree ovviamente che ci sono all'interno dei vari spazi quindi possiamo all'interno di uno stesso edificio lavorare in una modalità se vogliamo più resident barra tradizionale o in una modalità più innovativa e quindi la stessa quantità di superficie può essere molto più abilitante per un numero maggiore di persone quindi questo è un po' il concetto gli stream e quindi le aree i driver da tenere conto sono sicuramente il livello di mobilità sono la tipologia di attività noi pensiamo che ci sono delle aziende che hanno uno spirito più collaborativo e ci sono delle aziende che hanno uno spirito più individuale ma non perché è nello spirito perché è nel modo di lavorare noi pensiamo non so le società di progettazione piuttosto che le realtà di consulenza sicuramente hanno uno spirito più collaborativo rispetto magari a uno studio legale che ha uno spirito più individuale quindi questo ha sicuramente una valenza importante e poi oggi ci sono dei fattori abilitanti quanto si investe in tecnologia spesso io dico che noi abbiamo tutti a livello personale una tecnologia molto sofisticata e poi spesso andiamo in grandi grandi aziende dove le tecnologie sono ancora indietro dove se entro in una sala riunioni faccio fatica a collegarmi non c'è lo spinotto il cavo dov'è c'è tutta una serie di cose molto pratiche mentre oggi a casa ci colleghiamo magari in modo molto semplice il nostro smartphone la televisione quindi siamo qui anche su questi temi qui oggi dobbiamo un po' tenerne conto un'altra cosa importante è la flessibilità dello spazio voi vedete la foto che c'è alle mie spalle che è il nostro ufficio oggi è il nostro ufficio ma può essere tante altre cose la connotazione e su questo secondo me è uno spunto sul quale noi stiamo lavorando molto e invito voi che siete la generazione futura della progettazione invito a riflettere diciamo che forse la morfologia degli edifici ci porta a dire che quello è un edificio per uffici quell'altro è un residenziale quello è un albergo e quello è un centro commerciale poi non serve più il centro commerciale cosa ci faccio non serve più l'ufficio cosa ci faccio mi cambia quindi capire come l'adattabilità di un organo edilizio possa permettere di svolgere al suo interno diverse funzioni io dicevo questo spazio che ho io alle spalle prima che lo prendessimo noi era prima un magazzino poi c'era uno che faceva i materassi prima ancora nella storia c'era una vecchia stamperia oggi ci siamo noi domani potrebbe essere è uno spazio che per sua connotazione offre diverse possibilità di utilizzo quindi questo secondo me è un altro degli elementi molto importanti ecco che oggi diciamo tornando un po' nell'ufficio se noi realizziamo le attività che si fanno all'interno di uno spazio ufficio sostanzialmente oggi noi svolgiamo due tipi di attività lavoro individuale o lavoro collaborativo e se andiamo a scavare all'interno di questi ognuno di questi ci apre delle porte lavoro collaborativo non è solo una riunione una riunione come la facciamo posso farla formale posso farla informale posso posso sedermi in modo uno stand up meeting mi serve uno spazio dove invece devo condividere un progetto quindi molto più dinamico quindi anche su questo cerchiamo e troviamo quali sono le aree più idonee ovviamente alle organizzazioni quindi questo diciamo che porta in modo molto pratico un'analisi diciamo dettagliata porta sicuramente a un saving ovviamente di superficie di spazi che non è da poco voi pensate che oggi non so in centro a Milano un canone di affitto medio euro metro quadro viaggia sui 500 o 600 euro al metro quadro quindi voi pensate che questo ovviamente ha un impatto importante ma oltre che all'impatto di saving siamo convinti che il creare degli spazi che diano efficienza che siano fatti a misura d'uomo portano un ulteriore booster spinta al business e all'organizzazione quindi questi sono un po' gli ambiti quando parliamo di progetti innovativi parliamo sì di spazi ma non possiamo non parlare di tecnologia di persone e di cultura quindi questi elementi vanno sicuramente visti insieme e devono essere affrontati a 360 gradi in un progetto di spazio ufficio quindi diciamo che il fatto di condividere di creare socializzazione di comunicare queste sono tutte nuove opportunità alle quali oggi stiamo assistendo pensiamo a tutta il come dire la crescita degli spazi di di co-working per esempio no fino a qualche anno fa ma sì io ho la casa che non uso e gli metto dentro tre scrivanie diventa uno spazio di co-working oggi ci sono delle realtà importanti organizzate attrezzate che magari ospitano piccole società e nell'ospitare piccole società diventano delle opportunità di collegare la società di avvocati con la società di architetti con lo studio e quindi diciamo che questi diventano anche questi dei luoghi nuovi luoghi dove ovviamente si creano secondo me delle bellissime opportunità di connessione oggi che cosa ci chiedono le aziende ma adesso vi faccio vedere questi sono alcuni dei progetti nostri recenti pensate come una volta non so la reception era il luogo dove innanzitutto avevi una barriera arrivavi dovevi registrarti dovevi dovevi dire chieri oggi le aziende si stanno aprendo il progetto Microsoft è interessante vi racconto un po' come è nato diciamo che Microsoft che è un progetto di due anni fa sostanzialmente ma pensate che solo sette anni prima ma neanche cinque anni prima Microsoft aveva fatto un nuovo campus alle porte di Milano investendo anche diversi diversi tanti euro e però ha deciso di entrare a Milano quindi è un progetto che da real estate diventa un progetto di comunicazione da ventimila metri quadri diventano settemila metri quadri da un campus dove aveva internamente la palestra il ristorante tutta una serie di servizi entra in città e usa i servizi della città quindi è un progetto come dire importante e soprattutto Microsoft mette a disposizione della città perché voi pensate che su cinque piani due piani sono dedicati come dire ai prodotti Microsoft e sono aperti voi se vi capita di andare sabato domenica sono spazi aperti questi del primo piano dove potete provare dei playstation collegarvi incontrarvi e quindi anche la reception non è più una reception è un'area welcome sono spazi informali dove ci si può incontrare negli uffici l'evoluzione vera di questo progetto per esempio è stata quella non solo del concetto di condividere le postazioni di lavoro e quindi non avere io la mia e Giovanni la sua e Tommaso la sua ma di avere delle postazioni studiate in modo da poter far lavorare meglio le persone in base al tipo di attività che devono fare i creative garden sono dei luoghi dove le persone possono andare a lavorare per essere più creative che sono diverse dalle postazioni standard dove invece vanno per fare altre tipologie di attività questo poi è stato un bellissimo progetto che ha messo insieme alcune linee guida corporate che noi abbiamo un po' stravolto è diventato un best practice abbiamo vinto degli awards a New York e Michael da qui ha portato avanti anche questo design su altre sedi non potevamo toccare l'involucro edificio che è un bellissimo progetto di Erson de Moron con come potete vedere cemento a vista ma però erano un vincolo quindi abbiamo creato queste casette e l'idea era proprio quella di una casa nella casa cioè l'architettura doveva leggersi doveva continuare ad essere visibile leggibile ma dentro succedono delle cose diverse quindi in modo rispettoso sia degli architetti ma in modo funzionale per Microsoft abbiamo sviluppato questo progetto abbiamo iniziato anche a lavorare io prima di applicarli l'ho voluto testare su me stesso ho lavorato per sei mesi su un tavolo tondo con i miei collaboratori e devo dire che cambia completamente la relazione diciamo che hai con le persone che sono sedute vicino a te perché non hai una persona davanti hai sempre una persona di fianco che secondo me è una cosa bellissima quindi abbiamo disegnato questi tavoli tondi questi elementi centrali sempre per darvi qualche spunto sono degli elementi che elettricamente possono salire e scendere e quindi questi tavoli possono essere sia tavoli di riunioni o tavoli dove invece faccio delle attività più individuali quindi questa è un po' un po' alcune alcune innovazioni anche le aree diciamo di socializzazione sono diventate dei luoghi che abbiamo studiato con Microsoft stessa abbiamo aree tematiche quindi sui quattro piani abbiamo la lab della città lab della natura qui siamo nel lab della città questo è un tavolo a specchio il concetto è di essere in piazza e quindi sopra questo tavolo a specchio abbiamo riportato qui la vedete la piazza Gaolenti una foto di piazza Gaolenti quindi quando io mi siedo piazza Gaolenti si specchia nel tavolo e quindi questo è un po' il concetto abbiamo le strisce pedonale piuttosto che il concetto del play quindi abbiamo un'area social su un altro piano che parla invece del tema del gioco anche sul gioco abbiamo fatto diverse ricerche abbiamo portato il gioco all'interno degli spazi ufficio abbiamo il tema della natura quindi anche questo albero ovviamente finto che però crea con lo stesso con un prato diciamo che richiama un prato la possibilità e poi vedete che qui ci sono le postazioni lavoro quindi l'ufficio in questo caso diventa veramente un lungo più di connessione diciamo che chi lavora in Microsoft va in ufficio se deve collegarsi e connettersi e deve incontrare fisicamente un collega altrimenti può essere e può lavorare in modo totalmente delocalizzato vedete come anche il design cambia completamente abbiamo delle forme dei materiali dei tessuti che sono molto più vicini a quello che potremmo avere a casa rispetto a quello che avevamo in ufficio una volta Nestlé Nestlé è un brand che ha dentro diverse aziende stiamo parlando in realtà di 20.000 metri quadri quindi il tema comunque della pulizia e dello storytelling abbiamo disegnato su questo mezzanino queste nicchie dove c'è tutta la storia della Nestlé e tutti gli oggetti ovviamente che sono che fanno parte della loro storia concetti di lockers quindi possibilità per tutti i dipendenti di UI di avere quando arrivo non hanno una postazione dedicata la tecnologia mi aiuta a capire quali sono gli spazi liberi quali sono le sale di unioni con questi pannelli touch panel occupate abbiamo disegnato questi pixel che possono essere più o meno densi in relazione ai livelli di privacy che vogliamo dare all'interno delle postazioni piazze che servono all'interno degli spazi ufficio da connettori dei vari gruppi delle varie aree di business che lavorano all'interno degli uffici concetti di comunque rendere è vero che la tecnologia ci aiuta ma non dimentichiamo anche l'importanza di poter scrivere e fare dei brainstorming con dei team in una modalità molto informale il concetto anche del del lounge del break sta cambiando in modo importante questi sono spazi dove non solo posso consumare un pasto ma posso anche utilizzarli nel corso della giornata per incontrarmi per collegarmi con il mio collega creare delle meeting con delle morfologie diverse il concetto che questa è una sala di riunioni che è a Milano che ha una stessa sala di riunioni con questa conformazione a Roma e quindi in una modalità smart posso collegare team team diversi il tema del brand è un altro tema importante pensate che cosa vuol dire per Nestlé che ha dentro Purina mondo animale ha dentro San Pellegrino ha dentro il mondo delle waters ha dentro il Nescafè ha dentro diverse realtà e come andare a mantenere quell'identità all'interno di un grande gruppo internazionale quindi anche qui è stato fatto una volta sviluppata tutta la parte di analisi e consulenza abbiamo tradotto questi principi in principi anche di design il fatto di collegarsi e di non pensare a un auditorium tradizionale ma a un auditorium così molto più informale molto più utilizzabile condivisibile dove noi per esempio anche in ufficio da noi abbiamo creato una connessione tra due livelli con un elemento di questo genere voi pensate che il 90% degli edifici ha le scale che sono delle scale considerate solo per via di fuga ma le scale sono il punto dove avvengono la maggior parte delle connessioni invito a pensare alle scale come un elemento diverso un elemento che ok la via di fuga ok la connessione ma quando io incontro una persona sulla scala mi ci fermo ci parlo qui diventano dei luoghi anche questi secondo me che meritano uno sviluppo interessante il tema della ristorazione i ristoranti aziendali una volta si chiamavano menze erano degli spazi dove le persone andavano a mangiare nelle due ore di pausa pranzo in turni oggi sono degli spazi aperti dalla mattina alla sera sono degli spazi abilitati ovviamente a distribuire i pasti ma sono degli spazi dove invece ci incontriamo dove facciamo delle riunioni dove possiamo anche qui con molta attenzione al tema del comfort al tema dell'acustica che è fondamentale interno di questi spazi ecco ricordiamoci come lo accennavo all'inizio lo spazio è importante ma non è mai solo una questione di spazi noi siamo 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 convinti insomma che sono le persone il vero valore delle aziende e non non è sufficiente preparare gli spazi per le persone noi siamo architetti dice vabbè ma che vuol dire no vuol dire vuol dire perché quando progettiamo degli spazi nuovi innovativi e li progettiamo per le organizzazioni dobbiamo anche pensare a come le persone vivono questi cambiamenti e quindi abbiamo attivato anche qui delle attività che si chiamano appunto World Trade Change Management che vuol dire preparare anche le persone al cambiamento e preparare le persone ai nuovi spazi quello che abbiamo visto è che in realtà le persone non sono resistenti a cambiare sono resistenti a essere cambiate cioè l'imposizione da domani lavori così perché cioè è importantissimo gestire un progetto di cambiamento è importantissimo che ci sia una comunicazione e voi pensate che in un'organizzazione vi dico per esperienza fatta cento l'organizzazione 20% delle persone sono quelli diciamo positivi quelli carichi quelli che gli piace il cambiamento gli piacciono le sfide sorridenti il 20% sono le persone come dire mediamente più negative e quindi abbiamo un 60% di persone che è in mezzo allora nella gestione del cambiamento abbiamo la possibilità di gestire i rumors gestire i mal di pancia e quindi trasformare tutte quelle che possono essere un po' i rifiuti iniziali perché siamo esseri umani siamo abituati noi tutti abbiamo delle zone di le nostre zone di comfort all'interno delle quali ci piace ci piace stare e che cosa vuol dire cambiare queste zone di comfort questo è un esercizio io personalmente lo faccio spesso ma perché mi piace come dire cambiare le zone di comfort e vedere altri punti altri punti di vista però ecco in un'organizzazione di mille duemila tremila persone dobbiamo pensare che non è così scontato quindi il portare on board le persone e fargli capire perché questi progetti perché il modo di lavorare sta cambiando trasformando i rifiuti in entusiasmo e questo è un po' quello che succede chiaramente i progetti come dicevamo prima noi siamo dei traghettatori siamo delle guide alpine qualcuno ci definisce guide alpine nel senso che portiamo i nostri clienti all'interno dei nuovi spazi ma non è cioè quello è l'inizio della vita dell'organizzazione all'interno un po' del nuovo modello ecco che diciamo questo è un po' quello con cui ci divertiamo quotidianamente è chiaro che entrando un po' nello specifico sulle caratteristiche immobiliari anche qui diciamo che partendo come dicevo prima dall'analisi dal dentro a fuori ci sono alcune misure alcune dimensioni alcune cose che sono come dire inevitabilmente più efficienti di altre che cosa vuol dire misurare lo e perché e perché lo facciamo ma lo facciamo perché lo spazio ha un costo sia per chi lo costruisce che per chi lo utilizza quindi diciamo che il tema dell'efficienza è un tema fondamentale sia per gli sviluppatori quindi quando ci chiamo uno sviluppatore dice devo costruire un nuovo building multi tenant per diverse realtà per diverse aziende non so ancora chi verrà in questi spazi sia per chi poi va a utilizzare invece il tenant che prende in affitto tutti tutti conosciamo le case sulle case siamo tutti molto preparati è tutto anche molto chiaro in cucina cucino in sala guardo la tele e in camera da letto dormo no in un ufficio questa cosa qui non è così scontata no e nelle case siamo tutti abituati che se abbiamo dei grandi corridoi caspita poi alla fine c'è la stanza piccola lo stesso nell'ufficio adesso vi ho fatto questo esempio un po' per farvi capire meglio e se noi prendiamo un edificio e cominciamo a scomporlo e cominciamo a misurarlo partendo addirittura da quella che noi chiamiamo gross external area cioè prendiamo il filo della facciata esterna e misuriamo quanti metri quadri abbiamo dentro poi cominciamo a togliere la facciata cominciamo a togliere i nuclei scale ascensori bagni cominciamo a togliere la circolazione principale quello che ci resta è quella che noi chiamiamo area netto occupabile che è lasciatemi il termine lasciatemi dire il termine è la parte buona cioè la parte dove io veramente posso fare un ufficio una sala di ignoni no e quindi su questo ovviamente ci sono ormai a livello internazionale dei parametri di efficienza che cosa vuol dire l'efficienza del nucleo non un uccello ma il nucleo e l'efficienza della circolazione l'efficienza del nucleo è quella che diciamo guarda molto lo sviluppatore quella che in inglese si chiama il landlord efficiency e l'efficienza della circolazione è quella che si chiama il tenant efficiency cioè chi prende in affitto uno spazio mette in relazione non mi interessa quant'è la facciata no non mi interessa sostanzialmente quanto sono le scale gli ascensori che comunque entrano in coste millesimali ma mi interessa fatta cento la mia area netta interna quant'è quella che effettivamente vado a utilizzare quindi il rapporto tra area netta occupabile e area netta interna è fondamentale abbiamo dei parametri ormai che se siamo sotto il 75% vuol dire che abbiamo troppi corridoi non è funzionale non è efficiente così come se andiamo sulla valutazione dei nuclei no anche qui questi parametri sono dei parametri che valgono per edifici fino a 5 6 10 piani è chiaro che quando parliamo delle torri parliamo di parametri che si discostano da questi perché ovviamente in un edificio torre non apro qui il diciamo il paragrafo sugli skyscraper ma se pensiamo alle torri che abbiamo a New York non sono a livello di dimensione di massa non sono comparabili ovviamente con con gli edifici con i grattacieli che abbiamo in Italia però ecco questi parametri sono dei parametri per chi progetta assolutamente importanti da tenere in considerazione altre caratteristiche fondamentali sono la modularità la fruzionabilità la flessibilità e il comfort che cosa vuol dire modularità allora dopo tantissimi studi ma BGW aveva parlato aveva lavorato sul blue building non so se Giovanni sicuramente se lo ricorda parliamo di parliamo di letteratura di una ventina di anni fa il modulo di un edificio che cosa vuol dire il modulo diciamo che gli edifici hanno una facciata e la facciata ha un suo passo ci sono i francesi che lavorano più con il 120 ci sono esempi di 120 intendo interasse modulo modulo è un metro e venti ci sono edifici che lavorano con un metro e ottanta diciamo che sicuramente io sono convinto che il metro e mezzo è il parametro come dire più funzionale per un edificio il metro e mezzo è un parametro che perché è più funzionale perché due moduli danno tre metri e tre metri se fate un'analisi e la vediamo magari in questo modello tre metri è un modulo che mi permette anche di avere un ufficio chiuso tre metri è un modulo che un metro e mezzo è un modulo che nella diciamo che sviluppa anche delle perché dovete vederlo non solo nel verso come dire della facciata ma anche nel verso della profondità gli edifici per uffici quanto più hanno una griglia di pianificazione tanto più permettono di creare situazioni modulari non solo come vedete in questo caso da un punto di vista di postazioni di lavoro ma anche di impianti voi guardate queste fasce noi qui abbiamo progettato uno spazio dove ogni fascia ha un suo corpo illuminante ha un suo fan coil ha una sua griglia di mandata dell'aria e di ripresa dell'aria quindi vuol dire che a costo praticamente zero io posso chiudere questa cellula e questa cellula è funzionale e risponde alle esigenze senza dover andare a intervenire su controsoffitti quindi vedete che questi elementi band raster sono già predisposti per accogliere le pareti eventualmente che possono andare a metà quindi questi questi concetti sono assolutamente perché mi danno la flessibilità perché oggi mi serve uno spazio e domani non mi serve quindi devo poterlo cambiare in modo molto molto veloce la frazionabilità è un altro elemento importante la frazionabilità di un edificio o di un piano oggi potete avere un cliente che magari ha bisogno di 500 metri quadri poi 1000 poi 1500 poi 2000 e poi magari un'intera sede come faccio io oggi da sviluppatore o da progettista a realizzare un oggetto che tiene conto di questi concetti e devo considerarlo devo capire devo andare a posizionare i nuclei scale i bagni per far sì che questa frazionabilità come dire avvenga e risponda a queste esigenze il modulo di facciata come vi dicevo prima no e la griglia di pianificazione abilita a tutta una serie di potenzialità ovviamente dello spazio voi vedete che questo con un taglio da un metro e mezzo per un metro e mezzo ovviamente vi permette di avere degli standard e dei concetti ovviamente molto 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 flessibili e in base alle profondità posso avere dei concetti di pianificazione dello spazio completamente diversi perché negli anni 70 80 si progettavano edifici con una manica da 12 15 metri da 12 10 metri perché la circolazione era centrale e perché aveva uffici chiusi da una parte e dall'altra oggi stiamo progettando spazi che hanno delle maniche profonde non meno di 15 e non più di 22 poi è chiaro che qui dipende anche un po' dalla cultura Londra per esempio ha degli edifici molto profondi ma a Londra è normale lavorare al centro di edifici senza vedere la luce naturale noi siamo diciamo noi nell'area Europa centrale diciamo siamo sicuramente più abituati a lavorare guardando anche fuori dalla finestra ci piace guardare fuori dalla finestra abbiamo giornate più luminose e quindi ecco che la conformazione e le profondità dello spazio permettono di avere magari nelle aree più periferiche postazioni di lavoro e nelle aree centrali invece delle zone di supporto che cos'è la bolla che oggi secondo me è un altro degli elementi io sono cresciuto con questo concetto qui la bolla rappresenta la postazione lavoro la bolla ha un diametro più o meno di due metri e vuol dire che ognuna di queste è una postazione quindi è un esercizio interessante da riproporre anche in vista delle situazioni come dire di comfort e di salute sulle quali oggi stiamo stiamo vivendo pensate un'altra delle cose quando si progetta all'impatto delle strutture no l'avere una visione integrata e a 360 gradi di un progetto credo sia una delle cose importanti ed è una delle cose che di GW mi ha dato e che io cerco di trasmettere ai nostri collaboratori perché bisogna pensarci fin dall'inizio no è vero che poi viene lo strutturista ma qual è l'impatto della struttura su un layout e quindi su come io cliente che prendo quello spazio in affitto posso usare o meno vi ho fatto vedere prima e ci torno indietro velocissimo perché questo che vedete è un progetto che era il progetto della riqualificazione della 3M sostanzialmente che cosa abbiamo fatto abbiamo portato le strutture spalmate nel nodulo da uno e mezzo all'interno della facciata quindi vedete che questo spazio non ha una colonna non ha un pilastro è tutta area lasciatemi il termine buona che posso utilizzare per andare a mettere postazioni quindi anche la modularità e la posizione delle strutture è assolutamente uno degli elementi importanti di cui tener conto la cellularizzazione cioè quanto posso mi arriva un cliente che vuole tutti i spazi chiusi quindi questi sono tutti esercizi tutti i test che vengono fatti ovviamente sugli spazi e questo ci dà la possibilità di cominciare a sviluppare dei progetti in relazione alle profondità quindi è chiaro che se abbiamo un corpo di fabbrica di 12 metri avremo una circolazione avremo un'area più profonda dove mettere le postazioni le interromperemo con delle aree di supporto e avremo un'area meno profonda dove invece ci andrà a mettere degli spazi come dire più piccoli più meeting o anche uffici chiusi se lavoriamo su un edificio di 18 metri barra 20 ecco che la pianificazione invece ci deve far pensare magari a dei nuclei scale bagni centrali alternati con delle aree di supporto diciamo che abilitano l'utilizzo di queste postazioni di lavoro e una doppia circolazione e magari andare a lavorare per quartieri a noi piace molto che ognuna di queste è un po' come ogni persona è un po' come fosse una cellula e tante cellule fanno un quartiere quindi ogni quartiere ha una sua area e ha delle aree di supporto dove fare la telefonata riservata in questo phone booth ha delle aree copy dove invece in modo strutturato ha delle aree progetto ha la possibilità di fare delle riunioni di spazi che possono essere di questo tipo ha la possibilità di riservarsi un ufficio chiuso che chiamiamo office and meet diciamo che questa è un po' diciamo la modalità con cui si può allestire e progettare uno spazio di questo tipo ecco che su un concept ci possono essere tanti modi di sviluppare poi dei progetti e ognuno di questi deve fare un po' fede a quello che dicevo all'inizio un po' quelle che sono le caratteristiche del cliente quanto vuole essere interattivo comunicativo creare uno spazio che abilita più il principio della condivisione dell'opzione uno che invece è uno spazio un po' più individuale quindi questi sono alcuni dei concetti sicuramente importanti è importante anche questa un'altra delle attività sicuramente di consulenza il fatto di capire come diverse morfologie possono rispondere a esigenze di un tenant specifico di un'organizzazione specifica quindi a parità di sagome o di differenza di sagome come rispondono in termini di efficienza questi questi spazi quindi che cosa vuol dire misurarli che cosa vuol dire tutti quei parametri di cui vi faccio vedere prima in termini di percentuale di efficienza cioè non è detto che a parità di superficie lorda gli edifici siano efficienti tutti nello stesso modo quindi questa è un'altra delle cose importanti quindi non è detto in superficie lorda tutti gli edifici da un punto di vista di aneletta interna rispondono in modo in modo omogeneo ovviamente anche da un punto di vista di costi qui quando entriamo con alcuni sviluppatori diciamo che c'è abbastanza un livello omogeneo di allestimento di questi spazi e c'è anche un dizionario internazionale che prevede la tipologia shell and core come dire come primo livello di delivery di un building che poi passa in un cut a quindi shell and core vuol dire sostanzialmente facciate nuclei però sostanzialmente dentro non ho nulla non ho impianti non ho finiture non ho niente cut a vuol dire categoria A sarebbe vuol dire che invece mi viene dato questo spazio già con dei controsofitti con dei corpi illuminanti ma io devo finirlo devo mettere la mia finitura nel pavimento devo mettere le mie pareti cut b invece quello è l'attività di fit out quindi lo spazio è finito e quindi diciamo che questo dipende un po' dove ci si innesta per completare ovviamente questi progetti ecco e poi quando siamo coinvolti su analisi comparative tutti questi dati devono essere messi in una matrice e devono aiutare il cliente a capire qual è la soluzione migliore ma non perché è migliore in senso assoluto perché ho fatto quell'analisi su chi è il cliente e su qual è la morfologia e la soluzione migliore per quel cliente quindi questo è un po' quindi questo io spero di essere stato nei tempi non so quanto quanto abbiamo questo è un po' quello su cui noi ci confrontiamo quotidianamente su cui cresciamo quotidianamente e su cui il mercato ci offre continue opportunità e sfide da affrontare io ringrazio moltissimo Alessandro anche per una performance fisica di parlare per un'ora e un quarto senza inciuccare un congiuntivo contando con una capacità anche di tenere la presa dell'uditorio su quello che è un'esperienza progettuale davvero ci sarei allenato ma è straordinaria grazie io so che ci sono molte domande degli studenti io vorrei però togliere un minuto agli studenti per fare una considerazione quasi più che una domanda ad Alessandro e che mi piacerebbe che valesse un po' anche a giustificazione del fatto che siamo qua l'università è uno studio professionale una società a discutere insieme è una domanda che ha a che fare con un presupposto direi epistemologico del lavoro di DGW cioè mi sembra che il riferimento alla bolla alla bolla di due metri di diametro che corrisponde un po' voi siete degli scienziati della bolla se mi si consente questo cioè studiate la bolla studiate come funziona in tutti in tutte le moltiplici dimensioni il modo di lavorare come ci si organizza il rapporto tra bolla e bolla non soltanto la bolla insieme ma la bolla in relazione alle altre ecco questo questo cioè esiste un nucleo tematico del workplace che vi permette di diciamo di avere un atteggiamento in qualche modo oggettivo vi permette di fare misurazioni che valgono dappertutto vi permette di individuare trend vi permette di usare il building appraisal per esempio e di fare considerazioni tipo core and shell che valgono diciamo a prescindere dai contesti dalla contingenza a me sembra molto interessante come più si è dentro il nucleo tematico più si è dentro una dimensione oggettiva ma tu per primo dici poi c'è l'esperienza soggettiva e poi ci sono tutti i confini di questa scienza oggettiva che sono anche molto interessanti e me ne vengono in mente due uno è quando si passa dall'interno all'esterno cioè quando si passa dalla diciamo dal controllo del diciamo dello spazio interno e quando ci si rivolge all'esterno quando si dialoga con altre cose le facciate per fare un esempio che parlano con il resto della città per cui con la sua contingenza la sua contestualità la sua specificità l'altra quando si quando viene messo in discussione uno dei presupposti fondamentali dell'efficienza che è diciamo il valore il valore immobiliare dello spazio una cosa è progettare a Londra una cosa è progettare a Milano un ufficio una cosa purtroppo è progettare a Torino dove i valori immobiliari tu lo sai perché ci stai anche lavorando sono completamente diversi e allora bisogna attivare altre strategie che non sono magari quelle della massimizzazione perché in fondo non è tutto questo problema dover economizzare lo spazio allora mi sembra molto interessante come ci possa essere un nucleo tematico che è che sono dico scientifico per dire che in qualche modo è misurabile è falsificabile uno potrebbe dire caro Adamo non è 1,5 ma 1,6 il passo ideale e te lo dimostro in base a una serie di calcoli e tu dovresti dire beh effettivamente forse sì dipende da e questo è diciamo un nucleo scientifico in senso in senso tradizionale poi ci si allontana da questo nucleo e si incontrano invece altre cose cioè si passa da un'isola assoluta a un'isola relativa e questo è molto interessante perché anche deve esplorare il confine della bolla con tutte le sue implicazioni le sue soggettività le sue contestualizzazioni le sue contingenze però questa frontiera mi sembra molto interessante da studiare assolutamente sì sì ma diciamo che poi sai la nostra è anche una scienza io dico che deve essere sempre aperta a nuovi a nuovi concetti perché è chiaro che anche il metro e mezzo nasce con un principio di dimensione di tavoli di dimensione di sedie di spazi no per cui oggi anche dobbiamo capire come questi si evolvono no come questi potranno evolversi per cui assolutamente diciamo che il metodo oggettivo sì per noi è fondamentale cioè poi dopo può essere perché sai cos'è io dico sempre sarà l'influenza del papà ingegnere ma la bellezza è tutta soggettiva cioè il bello è tutto soggettivo no mentre su alcuni parametri lo space planning non è soggettivo cioè lo space planning che è in bianco e nero deve essere funzionale per essere funzionale è scientifico quindi questo è un po' il concetto ci sono domande abbiamo poco tempo non lo so io se volete mi offro disponibile se non c'è tempo per le domande me le mandate e io vi cerco di rispondere sì magari c'è una domanda adesso di Giulia che può prendere farsi vedere in video e prendere la parola ok Giulia ok buongiorno mi vede ti vedo ti vedo perfetto perfetto la prima domanda è che abbiamo compreso che voi operate agite in un modo un po' diverso dal modello standard del studio tipo di architettura in Italia mettendo in atto un approccio societario quasi in questo caso si tratta di una metodologia che avete introdotto voi per primi in Italia oppure era già presente nel mercato e tra l'altro anche come è stato ideato questo approccio quali sono gli aspetti positivi e negativi se ce ne sono grazie Giulia allora sì diciamo che questa metodologia è una metodologia di GW allora di GW è stata la prima società che ha aperto nell'85 in Italia non esisteva cioè il concetto dello space planning se andate a studiare o a rivedervi nel passato non esisteva non c'era cioè era un mercato molto frazionato di studi di architettura noi quello che abbiamo fatto questo grazie appunto ai nostri fondatori che sono poi nel brand è quello di aver creato un processo e siamo stati i primi noi di GW è stata la prima società da GW sono nate perché poi diciamo io personalmente ho sempre creduto nella squadra nel team nella condivisione e sono rimasto diciamo nella squadra nel team perché comunque mi sono trovato sempre bene questo spirito mi ha portato giustamente però capisco anche tanti tanti architetti che sono passati con noi e che poi a un certo punto dico vabbè faccio il mio studio faccio la mia società e sono usciti e che va benissimo perché poi ognuno deve trovare la sua dimensione dico però ecco da lì sono sono cresciute sicuramente tante cellule che hanno poi formato altre altre società e oggi sul mercato ci sono altre realtà ovviamente che si occupano magari non in modo così specifico perché hanno allargato però che sono comunque capaci non è che dico che oggi siamo gli unici sicuramente siamo stati i primi e sicuramente siamo un po' gli original come mi piace dire se posso dire una battuta ci fu un momento preciso in cui qualcuno credo Duffy decise scrivendo un libro importante decise di fare scienza di quell'esperienza bravo è stata una scelta consapevole tante esperienze diverse c'è stato un momento in cui trasformiamo questa esperienza che è condivisa anche in una vera e propria scienza con un investimento intellettuale non da poco beh Duffy 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 è un personaggio ovviamente che ha insegnato alle università DGW ha sempre fatto anche molta ricerca anche con i propri clienti anche nell'evoluzione perché pensate anche quante aree grigie ci sono nel mondo dell'ufficio andiamo dal learning no? andiamo ad aree social per cui diciamo che se vogliamo noi nel mondo ufficio siamo stati i primi gli unici e gli originali abbiamo come dire con Lombardini 22 quello che stiamo facendo è portare questo concetto dell'eccellenza progettuale ecco il perché delle business unit ogni business unit immaginatevi che è composta da un team di professionisti specializzato in quell'area cioè oggi anche progettare alberghi ha dei temi diversi dal progettare uffici progettare centri commerciali progettare residenziale no? quindi ognuna di queste per noi è diventata e ce n'è tante ancora da sviluppare no? stiamo ragionando oggi sul mondo ospedaliero stiamo ragionando oggi cioè su quante aree ci sono per creare delle eccellenze all'interno di un gruppo no? quindi questo è un po' questo è un po' quello che facciamo grazie grazie a lei ecco un'altra cosa bella se posso vai vai Antonella domanda volevamo sapere come fosse nato l'interesse per la progettazione degli uffici e se questo interesse fosse maturato durante comunque i suoi studi oppure direttamente in campo lavorativo e se poi ha frequentato magari dei corsi specifici che per essere in costante aggiornamento sullo sviluppo di questo settore sia in Italia ma anche in ambiente estero grazie Antonella bella domanda allora io diciamo che sono sempre stata una persona molto irrequieta e ma che aveva anche poca voglia di studiare tra virgolette quindi quando ho fatto l'università un po' perché i miei no the prop vai questa università insomma quindi questa ma ti racconto questa cosa qui per rispondere poi alla tua domanda no? nel senso che io non avevo un interesse specifico per il mondo ufficio non sapevo neanche quando studiavo architettura il primo anno che esistesse una società che si occupasse di uffici e mi immaginavo no? studiando uno dei più affascinanti le Corbusier no? di entrare in un piccolo studio di architettura dove con l'anziano architetto avrei cominciato a imparare qualcosa e cominciato a metterlo a terra in realtà quando sono entrato in DGW per motivi così per un motivo casuale no? in realtà mio papà che era ingegnere stava lavorando su una grossa società di farmaceutica e ha conosciuto Luigi Mangano che era l'amministratore delegato della DGW Italia proprio all'origine e quindi io che non sapevo stare fermo e non mi accontentavo degli studi ho iniziato a lavorare no? e e quindi diciamo che per me la passione è nata sul campo è nata sul campo in modo molto sperimentale non ho mai fatto corsi specifici anche perché faccio fatica a a concentrarmi a studiare delle cose io le cose le devo vivere e quindi il e quindi DGW un'altra delle cose molto belle che mi ha dato e che che è la dimensione che fa per me è che i progetti li vedi realizzati questa anche Giovanni all'inizio ha detto una cosa molto molto importante no? il fatto che spesso architettura ti porta e l'università ti porta un po' a questo cioè a fare dei progetti che poi non vedi o comunque restano o nella teoria o DGW mi ha dato fin da subito la possibilità di fare di vedere dei piccoli progetti che poi vedevi realizzati io sono molto di esperienza io mi butto dentro le dentro le cose quindi tutto quello che ho imparato e che imparo lo continuo a fare e a imparare perché lo faccio veramente no? quindi questo è DGW diciamo noi anche come realtà anche con tutti i giovani che abbiamo oggi un po' questo è il nostro modo di operare un po' il concetto della piscina e ci si butta dentro devi avere tanta voglia tanta passione tanta voglia veramente di farcela di nuotare di non stare mai fermo perché poi il nostro è comunque un mestiere difficile per certi versi no? se non hai la motivazione la passione che ti spinge tanti si fermano grazie grazie a te ecco forse ok perfetto eh sì noi vorremmo sapere come riuscite ad organizzare a coordinare un gruppo di 300 persone soprattutto come riuscite a gestire pensare le idee contrastanti che si possono appunto venire a creare durante le fasi di progettazione di un determinato lavoro bene allora diciamo che il gruppo di 300 persone è organizzato con delle business unit quindi diciamo sottogruppi oggi la DGW tanto per darti un numero è composta da 60 professionisti eh ognuno di questi di questi gruppi quindi parliamo per esempio di DGW eh ha delle figure senior ok quindi tenete presente che magari chi è con me da 20 anni da 21 anni da 15 anni quindi diciamo persone che sono da molto tempo nel gruppo molto appassionate eh che hanno dei 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 team eh quindi che arrivano come dire ma diciamo dal più esperto all'ultimo giovane architetto no eh ognuno di questi sottogruppi ovviamente è in grado di gestire in relazione alla dimensione uno o più progetti in relazione anche a quante persone ha eh il nostro e e e su questo poi abbiamo quindi delle riunioni di confronto a livello sempre più più alto in relazione anche a quelle che sono le dimensioni dei vari progetti e hai usato una parola che è eh che che diciamo che la vorrei riportare in positivo no perché in realtà non c'è scontro ma c'è crescita cioè e e questo un po' l'invito che posso fare da da 51enne come ormai sono ma anche se non mi ci sento è quello di eh di di vedere sempre le domande degli altri in un modo aperto no in un modo aperto e costruttivo perché veramente più ci si apre ma questo lo dico anche io adesso perché poi quando uno è giovane è sempre convinto che la propria idea è la migliore ma più ti apri a capire le idee degli altri e più come viene 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 fuori un bel progetto no viene fuori un bel un bel oggetto una bella condivisione quindi e dobbiamo essere capaci di di abbassare un po' il nostro ego secondo io parlo per me eh e di e di aprirlo e perché perché nella condivisione c'è veramente il valore aggiunto e quello la dimensione questo mi piace dire che ho trovato con i miei soci noi siamo sette soci tutti ognuno molto diverso tutti con le nostre caratteristiche eccetera però diciamo che siamo molto fatti così non abbiamo cerchiamo di di non mettere il nostro ego davanti ma di mettere un tema di condivisione di semplicità e di voglia di fare queste sono diciamo le cose veramente che ci uniscono in modo in modo indelebile grazie grazie a te scusate io devo salutare per forza perché sto iniziando la mia la mia la lezione dall'altra parte ringrazio tutti che ho organizzato ringrazio Alessandro per aver partecipato conto di vederti martedì come ci siamo detti assolutamente per fare una discussione e davvero grazie perché è stato molto per me molto molto utile anche molto emozionante rivedere certe queste ho convissuto per parecchio tempo benissimo grazie di questa bellissima opportunità grazie a tutti se volete poi tramite Giovanni potete potete fare domande da avere dubbi curiosità insomma mi piace mi piacerà condividere anche altre cose va bene in bocca al lupo a tutti grazie anche da parte nostra grazie a tutti ci vediamo alla prossima lecture benissimo grazie di nuovo grazie a tutti